Buongiorno, io mi chiamo Mauro Berrutto, sono stato per un po' di anni l'allenatore della nostra nazionale maschile di pallavolo, ma soprattutto sono amico di Radio Incredibile, che si è messa in testa un'idea abbastanza incredibile per far federe al proprio nome. Un tour, mille chilometri e mille voci, partendo dalla mia Torino per passare attraverso Bologna, la Grotta Mare di Radio Incredibile, Pescara, poi Bari, per raccontare le piccole realtà imprenditoriali, quelle di base, quelle artistiche, quelle culturali, quelle sociali, mi verrebbe da aggiungere naturalmente quelle sportive che sono alla presa con questa difficile e complicata ripartenza. Il mio invito è quella di sostenere gli amici di Radio Incredibile, essere una di quelle mille voci e naturalmente aiutare, perché in questo momento queste piccole realtà hanno bisogno di ripartire per garantirci quel tessuto imprenditoriale e culturale di cui il nostro Paese ha un enorme bisogno, oggi più che mai.